Un'avventura studiata per un anno e preparata da due. Il cicloviaggio attraverso l'Italia della comunità Arash di Bologna parte oggi con 11 ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori che dal capoluogo emiliano in bicicletta, o meglio dire in tandem, raggiungeranno Roma in otto giorni. Le persone che sono coinvolte nel cicloviaggio in realtà potrebbero essere molto di più. Ci siamo limitati a 11 per dei limiti logistici della strada, nel senso che ci sarebbe piaciuto partire con un tandem orizzontale oltre che con la cargo bike, ma alcuni tratti sono un po' pericolosi. Sì, perché questa comunità che ha sede in provincia di Bologna ospita e accudisce da più di 20 anni molte persone. Tutte le disabilità intellettive, quindi l'autismo o anche doppia diagnosi, l'età è dai 18 ai 65-70 anni. La via scelta è la francigena immersi nella natura, un elemento prezioso per il percorso di autonomia dei ragazzi che con l'aiuto anche di volontari che li accompagnano sono riusciti ad allenarsi a tal punto da completare un'impresa fisica non da poco. Tra me e di tre chi è davanti? Io che faccio la guida, ma chi dà la potenza è dietro. Quello dietro non è passeggero, si chiama fuochista, per cui è chiaro che cosa fa il fuochista. Dà il fuoco in questo mezzo. Abbiamo sognato, esatto, nel senso che questo viaggio è un po' imprevisto, non era messo in preventivo, non era progettato nei minimi particolari fin dall'inizio. Abbiamo sognato e abbiamo scoperto che sognando si possono realizzare delle cose. Grazie a tutti.